Lucoil conclude accordo per la vendita di ISAB, partnership tra Goi Energy e Trafigura acquista le raffinerie. PJSC Lucoil comunica che l'ITASCO SA, controllata al 100% da Lucoil e Goi Energy Limited, hanno raggiunto un accordo per l'accessione di ISAB SRL a Goi Energy. Il completamento dell'operazione è prevista entro la fine di marzo 2023 al verificarsi di alcune condizioni sospensive tra cui l'ottenimento delle necessarie autorizzazioni delle autorità competenti in particolare del governo italiano. ISAB SRL è proprietaria in Italia di un grande complesso petrolchimico che riunisce impianti di raffinazione, gassificazione e cogenerazione elettrica. Per il complesso efficiente del complesso, dopo la sua acquisizione, Goi Energy ha stretto una partnership con Trafigura, uno dei maggiori commercianti internazionali di petrolio e prodotti petroliferi al mondo, che garantisce forniture in interrotte di materie prime alla raffineria e provvede al ritiro della produzione nonché alle necessarie livelli di capitale circolante. Il nuovo proprietario manterrà i posti di lavoro e garantirà condizioni di salute e sicurezza.